Proseguono gli interventi di riqualificazione dei parcheggi nella città di Fano. Questa volta tocca all'area di sosta di Viale Kennedy, nota ormai per le numerose battaglie sia politiche che dei residenti sulla trascuratezza del posto, come la presenza non regolare di camper e autocaravan in uno spazio privo di servizi e senza strutture adeguate. Finalità di questa operazione dell'amministrazione comunale riguarda appunto l'ospitalità per i camperisti provenienti da tutto il mondo in visita nella nostra città che potranno godersi dopo la riqualificazione di una zona a loro dedicata moderna e vicina al centro e al mare. Il progetto presentato questa mattina dall'assessore ai lavori pubblici Fabio Latonelli prevede 30 stalli riservati ai camper con tutti i servizi annessi insieme a 65 posti gratuiti per le auto. Abbiamo approvato in giunta il progetto preliminare di studio di fattibilità tecnico-economica per riqualificare questo parcheggio. Una parte rimarrà un parcheggio gratuito per le automobili e quindi dobbiamo abituarci ad utilizzarlo e una parte invece lo riserveremo ai camper con tutti i criteri che un parcheggio camper deve avere sia per dimensioni sia per servizi. Quindi una parte li costruiremo su una parte di quest'area verde, un'altra metà sulla parte già esistente asfaltata. Saranno due stralci, nel primo stralcio creeremo questi posti con le colonnine elettriche e anche il servizio di scarico dei servizi igienici del camper, delle fosse settiche del camper con un'apposita vasca in acciaio inox dove sarà sempre igienizzata e a norma di leggere. Ovviamente ci sarà un contributo da dare, sarà comunque a pagamento per i camper che dovranno pagare una somma che ancora dovremo capire e decidere quanto sarà. Un secondo stralcio invece è quello di poter aggiungere a quest'area una zona di servizi igienici, quindi bagni, docce, dove poter lavare le stoviglie, questo in un eventuale secondo stralcio. In più, una volta partiti i lavori, verrà installato un nuovo impianto di illuminazione e la piantumazione di nuove alberature per ombreggiare i mezzi in sosta durante le calde giornate d'estate. Il costo dell'intervento è complessivo, 120.000 euro e i tempi sono, diciamo, noi vogliamo approvare il progetto esecutivo e poi conseguentemente iniziare i lavori nel mese di giugno del prossimo anno, quindi intorno a metà del prossimo anno vorremmo iniziare i lavori.